bene adesso sono praticamente pronto manca solo da prendere la bici riempire le borracce e partire ebbene sì ragazzi novena iniziata con i suoi 20 chilometri dai per ogni che si stavano scambiando l'instagram è sicuro Gregario dalla Germania ultimi 400 metri di dislivello e poi scollino ultimi metri e siamo arrivati bene quando vedi che è all'ottanta quant'è? 40? 30? quando vuoi? 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 ci sono proprio la pianura ma la salita secondo me non mi sembra niente quasi quasi potessimo anche stare per qui no, un po' nuovo ti ha lasciato solo due entro la notte il bel latino un attimo preparazione preparativi per la sera bene, sono le sei di sera Lenea tutto a posto, ho avuto un po' di mal di schiena ma nulla di grave e nulla, adesso siamo pronti ad affrontare questa serata e si spinge non provi i tisatomi no e mi ha visto che siete immobili avanti quindi comunque vi stanno raggiungendo l'auto è un gran problema Lenea tutto a posto ma l'auto ha più problemi di lui ecco adesso sono le otte e mezza e vediamo di continuare Lenea sta tutto bene siamo tranquilli ecco per affrontare questa notte che sarà un po' una sorpresa perché è una cosa che non abbiamo mai fatto ecco speriamo che vado tutto bene e nulla più che altro il problema rimane sempre l'auto perché il motore dellenea spinge parecchio ho deciso se continuare o non e sembra che la centralina di avviamento quello che è non dà garanzie di funzionare in eterno o in breve eterno la notte è ufficialmente iniziata speriamo va di tutto bene e nulla lenea tutto a posto l'auto sta andando questo è importante sono stati momenti di panico ecco però dai ce l'abbiamo fatta adesso sono le 9 e mezza e nulla stiamo procedendo siamo belli motivati 100 no 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 tutto bene adesso il telefono purtroppo pensavamo che fosse sotto carica ma è giù solo al 9 boh, tieni conto che sono fatto 100 metri di discesa al lago ancora? e 100 di salita 100 di salita? si, e 100 metri quanti chilometri? 95 quando ci siamo fermati al lago no cavolo mi sembra sempre che finisca invece no mamma mia che mazzotta ok sono le 10 di sera lenea sta carburando per bene ciò che ha mangiato prima e nulla l'auto sta andando e tra neanche 100 km raggiungiamo il lago ecco quindi sta andando tutto bene crociamo le dita andiamo avanti stazione di Sion non fatelo voi che potete astenerevi da ciò sto stufo di mangiare basta non mi voglio più nulla che schifo cioè solo vederli mi può venire sono alle 3 del mattino abbiamo appena fatto 340 km adesso siamo arrivati sul lago Le Mano e nulla lenea sta bene sta molto bene diciamo mi può passare la persona un attimo via con la stanchezza stava arrivando ma l'abbiamo drogata con uno shottino di caffeina e rinato e nulla io ho tutto posto e si continua non si molla nulla continuiamo l'abbiamo in l'abbiamo con l'abbiamo con l'abbiamo con t con 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 Magari siamo qua a 20-30 minuti che scorcia un po' il sole. Allora, diciamo che le gambe adesso cominciano a farti sentire. Un po' frescolino. E niente, non vedo l'ora che arrivi fuori di questo sole qua. Siamo quasi a 450 chilometri e non abbiamo mai sentito dire che Elena è stanco. Fuori di testa. Fuori di testa. E' esatto. No vabbè che se comunque voi siete cotti tutto non proseguiamo. Se no sono altre tre ore o qualcosa. Punto della situazione. Abbiamo deciso di arrivare massimo a 500 chilometri essendo che mio papà è stanco morto di guidare e non dorme da tanto. Mentre mio fratello non sta bene. Quindi abbiamo deciso, come appena detto, che i 500 chilometri saranno il nostro obiettivo. Il fatto di arrivare a 6-700 sarà per l'anno prossimo. Dai, man! Un po' poi mai è l'anno. Un po' poi vaso. Un po' poi. Un po' poi. L'anno prossimo. Un po' poi. Un po' poi canale? Un po' poi. Un po' poi. Grazie a tutti Grazie a tutti